Io non ce la faccio più. Poi con Chiara è una tortura. Sto tormento. Io sto sempre lì a criticarla. E questa cosa dei denti storti, no? Io non so proprio che aspetto a lasciare Chiara. Ma che stiamo a fare insieme? Federica! Ciao! Ma tu sei fidanzata? No, no, no. E' stato molto bello, molto romantico. Mi sono stato bene. Ora però c'è una cosa che mi destabilizza perché lei ha una cosa qua. Però ecco, io so che non è la donna della mia vita, eh? Tommaso? Dimmi. Pezzo di merda! Mi fai schifo! Ma vuoi lei mi pare i senti? Abbatta, pepe! Tu vuoi fare un film solo di sogni? Sì, 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 sì! Questo! Bisogna volare in alto, bisogna provarci, bisogna avere coraggio. Io non so perché, ma ogni volta che riusciamo insieme, ci vediamo, io sto per via. Ti faccio effetto psicofarmaco? Per me non è possibile, io così non ce la faccio. Non trasmetti nulla di quello che ti succede dentro, sei diventata un muro! Un muro sei diventata! Sad DISPUZIEH normally. Hei, io... venomouszza! Ma tui, io ho laывают presa mamma mamma mamma... Ma madrca, ah... Ma madrca, ma madrca! Ma madrca, ma-m madrca, ma determina... Ma madrca, ma madrca! Ma madrca, ma madrca! Ma madrca, ma madrca, ma madrca! Ma madrca, ma madrca, ma madrca, ma madrca, ma madrca! Autore dei sottotitoli e delle caratteristiche.